Dio mio, per favore, concedi una vita di musicista a me. Un musicista che vorrebbe vivere e lavorare qui. E cosa vi porta a Venezia? La brama di perfezionarmi col maestro Pescetti. I vostri amici hanno davvero ragione. Avete un gran talento. Io lo riconosco da lontano un grande compositore, non mi sbaglio mai. Sarà un triunfo. Nessuno scrive così bene come il maestro Misli Vecek. L'orchestrazione e la cantabilità delle vostre aree mi hanno trasportato. Dimenticala. Hai capito con chi ha che fare? Smettitela. Avete un amante? Siete in pericolo, amico mio. È da tanto tempo che non scrivo una misura. E va, lo sapete, che io sia testimone di un successo così stravitoso. Ma questo non mi basta. Devo ritornare fra una settimana a mendicare di nuovo. E in pericolo, un amico? Malu, vera. Boże, daissy, aki dosi hanno svella ciele. Grazie a tutti.